Dico diritti e doveri dei conviventi. Non posso taccere la mia preoccupazione per le lecce sulle coppie di fatto. La coppia omosessuale è una deviazione naturale, cioè non esiste questo, è una deviazione. Noi siamo insieme ad otto anni e siamo una coppia, no? Per me no! E perché no? Perché no? I diritti di Dico sono già ampiamente... Di libertà di convivenza, quindi è inutile che lo Stato vi riconosca. Potete già con i vici, è la libertà. Dico è morto! Ero sia! Questa è l'uomo! Ero sia! Noi ci vediamo perché quelli ci menano, non hai capito che ci seguono fino a casa? Ma allora ci facciamo magari... Ci vediamo poi in casa domani a fammi di lei, eh? Ragazzi, non vi dico niente, non vuoi lavorare. No, grazie. Niente figli, niente famiglia. Né insampiare né accelerare. Non è una priorità. Noi proponiamo che la legge non si faccia. No, grazie. Mi sento grande, come una città, come una città, una gigante. No, acido suono, sento solo te, sento solo te. Questo che cos'è? No, acido sempre, acido per me. Siamo il Lignano! La famiglia normale, quella dove c'è ascolto, rispetto, dove c'è amore. Noi siamo una famiglia! Sai come mi piacerebbe finire i film? Come? Col botte della legge al Senato. Noi siamo una stadione! Non все ne fece amore. Non. Or Devitto. Noi siamo una famiglia! Noi siamo una famiglia! Grazie.